Sabato 3 ottobre, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino, oggi è sabato, siamo nel fine settimana, allora cominciamo dal santo, poi subito le previsioni del tempo e i giornali in edicola questa mattina. Allora il santo di oggi è Santa Candida, il sole sorgerà alle 7.11, tramonterà alle 18.48. Il bollettino della protezione civile delle Marche per oggi prevede cielo parzialmente nuvoloso fino a nuvoloso con dalla tarda mattinata di oggi brevi rovesci o isolati temporali sparsi nelle zone interne in spostamento verso la costa, i fenomeni saranno occasionali invece nella fascia collinare e costiera, mentre per la giornata di domani, domani 4 di ottobre, avremo dalla tarda mattinata brevi piovaschi sparsi sulle zone di montagna, occasionalmente potranno raggiungere la fascia collinare però nel tardo pomeriggio di domani. Avremo anche dei venti che raggiungeranno burrasca forte e da sud-est lungo la costa con raffiche fino a vento fresco. Diciamo che le venti forti in tempesta saranno soprattutto nell'entroterra. Lunedì 5 ottobre invece vedete ancora maltempo sulla catena appenninica, brevi rovesci o isolati temporali nelle zone alto, collinarie e montane, fenomeni occasionali altrove. Ancora un po' di settimana, la prossima un po' incerta, anche se poi un po' di sole tornerà, questo è minimo. Allora salutiamo anche tutti quelli che ci seguono su Facebook, per esempio, anche questa mattina sono tanti, li salutiamo tutti, sono coloro che magari ci seguono anche da fuori regione, da fuori città. Allora, il giornale Il Resto del Carlino apre questa mattina con il biodigestore che, a sorpresa ieri abbiamo appreso sempre attraverso il giornale, il Carlino che non si farà né a Fano né nell'Urbinate, ma a Talacchio, ecco, il biodigestore sarà fatto a Talacchio, forse c'era già l'accordo a luglio, sorgerà nella piana, lontano dalle case, smaltirà 60.000 tonnellate. A centro pagina un cane, un cane antidiabete, si chiama Nina, con il fiuto un border collie aiuta la padrona malata. In questa fotografia c'è questa ragazzina che si chiama Mia, la vedete qui, con il collie Nina, la tredicenne sorride con l'istruttrice cinofila Stefania Grilli che posa in questa fotografia per il giornale, avverte, il cane avverte prima dei sensori, il preciso momento in cui la tredicenne Mia ha un picco glicemico o un calo, mugola e batte le zampe, i genitori della ragazzina dice, ci ha cambiato questo cane, ci ha cambiato la vita. E poi Giorgio Calcagnini, andiamo a Urbino, che è il nuovo lettore dell'Ateleo, sotto la sfida di un 36enne Enrico Scala il suo Everest, così ho vinto il male di vivere, e poi invece sempre dalla prima pagina del Carlino, Cristo e ultima cena, Giuliano Vangi, svela le sue opere, saranno destinate niente meno che alla cattedrale di Seoul in Corea. Mostra dei fiori in mascherina, sfida al Covid, l'evento in piazza del popolo a Pesero. Vecchio Palace, via il tetto, a giugno lo apriamo, dice l'assessore Belloni che parla dei lavori in corso. E poi il Comune ha vinto il contenzioso, ex tribunale, ora la ditta deve ridare i soldi, un perito, poche opere e fatte male, tutto il secondo piano per il Museo della Moto. Il Corriere Adriatico, titolo d'apertura dell'edizione di Pesero, scoppia la bomba dei drive test, Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, no ai pesaresi da noi qui a Vallefoglia, in passe per l'effettuazione dei tamponi per le scuole. Il distretto avverte, non abbiamo personale sufficiente, richiesto all'Asur il raddoppio dell'Usca. Festa dei Fiori, debutto in sicurezza, controlli serrati per il giorno clou, a Pesero, bretella di Muraglia, marche multiservizio alla palla in mano, in via Cimarose il degrado avanza, Gambini deluso, rettore Calcagnini, plebiscito al voto, Ateneo. In salute del Bianco invece a Fano si dimette, l'assessore dice mi dedico alla scuola, dopo sei anni saluta la giunta di Fano, cambio nell'ambito di Noi Città con le nuove regole. Andiamo adesso sulle pagine in terra, vediamo quella del Corriere Adriatico, le norme anti-Covid anche questa mattina, tante pagine sono dedicate alla questione e all'emergenza sanitaria che sta ritornando, anche se lentamente, perlomeno per quanto riguarda la Regione Marche. Distanti, in mascherina e attenzione ai contatti, così si vive nelle Marche, dallo shopping alle lezioni a scuola, fino ai viaggi con i mezzi pubblici. Tutte le norme da ricordare per limitare la seconda ondata di contagi. Ora, fino a questo momento in Regione, da noi, nelle Marche, la protezione delle vie respiratorie si devono indossare nei luoghi al chiuso, quindi le mascherine si mettono soltanto qui nelle Marche quando si è nei locali chiusi, accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Obbligatorio invece indossare le mascherine dalle 18 alle 6 del mattino in tutte quelle situazioni che prevedono il rischio di assembramento all'esterno, quindi nei locali, nelle pizzerie, nelle vie e quant'altro. Però qualcosa potrebbe cambiare. Perché? Perché intanto Conte, il Premier, ha annunciato la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, quindi siamo in attesa del nuovo DPCM. DPC in fase di preparazione ci si sta lavorando anche all'idea di un'ulteriore stretta per frenare l'ondata di questi nuovi contagi che sta facendo un po' preoccupare l'Italia e quindi forse, ma di questo poi deciderà la Regione, forse potrebbe, come già sta accadendo in qualche altra Regione, potrebbe essere obbligatoria la mascherina anche quando si esce all'aperto, quando si esce fuori. Intanto qualche buona cosa il Covid lo fa e quindi per esempio dovremmo dire addio, scrive il giornale questa mattina, ad Halloween, pensa che peccato Halloween, Corinaldo chiude i battenti almeno per quest'anno, quindi niente streghe, niente maghi, niente vampiri, niente fantasmi, niente terrore, ma pensa un po', bisognerà farsi in una ragione. Comunque questo è il lato buono del coronavirus. Sui contagi, non i ricoveri, ma il Covid uccide ancora. Anziana vittima del virus era stata infettata dal nipote, ieri 42 positivi, il totale nelle Marche supera gli 8 mila. Intanto però l'indice R-T è stabile a 0,99 e se, senza adesso soffermarci troppo, a colpo d'occhio, guardando il vostro televisore, dato un'occhiata, ecco, vi facciamo vedere tutto, togliendo, ecco, così anche l'altra regione, la Liguria, così la potete vedere tutti. Ecco, questi numeri della fase 3 indicano comunque nelle Marche, ecco qua, noi siamo qui, un po' la situazione rispetto ad altre regioni, anche vicino alla nostra, come l'Abruzzo, 1,17 per esempio, già sopra l'1. In realtà noi siamo lì, 0,99, siamo in una situazione ancora abbastanza stabile. Ora, i pazienti negli ospedali scendono da 30 a 29 nelle Marche e quelli in terapia intensiva da 6 a 4. Non mi risulta che ci siano persone comunque intubate, nel senso sì, sono in terapia intensiva, sono con la mascherina, l'ossigeno e quant'altro, però nessuno in condizioni critiche. Un caso alla Whirlpool di Fabriano, invece tampone quindi per 15 colleghi. Anche questa mattina Lorenzo Sconocchini sul Corriere Adriatico fa un riepilogo giornaliero, il diario di bordo, il diario di viaggio di questo Covid nella nostra regione. Intanto il drive test a Vallefoglia, Ucchiali dice no ai pesaresi. Impasse per l'effettuazione dei tamponi per le scuole, è necessario riattivare la struttura di via dei cacciatori. Il distretto avverte, non abbiamo personale sufficiente, è richiesto all'Asur il raddoppio delle unità USCA. Le unità USCA sono quelle che tanto erano bramate all'inizio di questa, che dovevano entrare in azione all'inizio di questa emergenza, non dico marzo, ma insomma giù di lì, e che sono entrati invece un po' in ritardo perché non avevano neanche i presidi medici, mascherine e quant'altro per entrare. Sono quelle unità che entrano a casa, vanno a casa e fanno i tamponi alle persone che sono lì in quarantena. Esposto, i sindaci trovino un accordo, il servizio deve assolutamente partire entro il 15 di ottobre. L'attivazione di un punto drive, ricorda dunque la dottoressa che viene intervistata qui, Elisabetta Esposto, del distretto di Pesaro. L'attivazione di un punto drive fa parte di un percorso congiunto formale che coinvolge il Dipartimento di Prevenzione, la Prefettura e i sindaci dei territori interessati. Ora si attende solo che gli stessi sindaci riescano a trovare un'intesa fra loro. La necessità del Dipartimento è rendere operativa la nuova sede su Pesaro entro il 15 e non oltre. Andiamo sulla pagina 11 del Corriere Adriatico. Vaccini in farmacia, parliamo chiaramente dei vaccini non contro il Covid ma dei vaccini contro l'influenza stagionale. Entroterra e costa fanno la differenza. Dove la popolazione è anziana la copertura è già assicurata dalle consegne. Ma per i kit destinati alle fasce non protette la prevenzione sarà complicata. Contagio nelle scuole, avviati invece, avviate i test rapidi. Questa è una richiesta, ma è una richiesta che arriva un po' da tutte le parti. I test rapidi servono per non bloccare insomma l'attività scolastica. Perché dove c'è un alunno, come sapete, che viene trovato, o un alunno insomma che viene trovato positivo, tutta la classe va in quarantena. Parliamo adesso invece del biodigestore. Il biodigestore è da 30 milioni, smaltirà 60 mila tonnellate. Il luogo è ancora segreto, ma si dice che è talacchio appunto. Dai rifiuti gas che sarà venduto, l'impianto verrà realizzato in un'area industriale lontana diversi chilometri dalle abitazioni. La torta degli indennizi, opere o sconti in bolletta. Per chi abita ovviamente da quelle parti, per chi ha lo scotto di ospitare un impianto come quello che più o meno, come quello che vedete in questa fotografia. Ucchielli che cosa dice il sindaco direttamente interessato? Io non ho avuto nessuna proposta formale. Non c'è nulla di cui parlare, se non altro è certamente prematuro. Dice il sindaco Vallefoglia Palmiro Ucchielli, che al telefono è gentile, ma fermo. Nega il fatto, ma al tempo stesso non esclude, che possa concretizzarsi. Quindi probabilmente ancora non ci sono le idee molto chiare. Quindi per non spaventare, per non allarmare la gente, per non far sì che crescano comitati come funghi, pro o contro, ecco, giustamente un sindaco dice io ancora non avendo nulla nelle mani, un timbro, una firma, un foglio, un documento, è chiaro che dice molto diplomaticamente è prematuro e quindi staremo a vedere se e come proseguirà. Intanto sul fronte fanese, vedete la foto del sindaco Massimo Seri, dice io voglio parlare di quote, sul sito c'era già l'accordo nel mese di luglio, il sindaco di Fano ribadisce l'importante che la struttura sia realizzata da Marche Multiservizi e Aset Spa, quindi va bene spostarla da un'altra parte, che non sia Fano, ma almeno che sia in società e che ci possa essere, che non resti fuori dunque anche la società pubblica del comune di Fano, quindi Aset. E sul secondo studio di fattibilità dice bisogna fare tutte le verifiche necessarie se no si buttano via i soldi. Questa è la dichiarazione del sindaco insieme ad altre dichiarazioni che troverete sul giornale di questa mattina. Intanto dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico la notizia che l'assessore del Bianco dice mi dimetto dalla giunta, adesso mi dedico all'insegnamento, quindi la dimissione, l'annuncio dell'assessore, il sindaco dice sostituzione nell'ambito di nocità, fino a mercoledì rifletto però sulle delega, quindi ancora non sa bene esattamente il sindaco come e chi, con chi sostituirla, si fa in nome comunque di Barbara Brunori, già vicepresidente del Consiglio Comunale e quello più accreditato. Poi il sindaco ha anche confermato, secondo le anticipazioni di ieri del Corriere Adriatico, appunto che la sostituzione di Caterina del Bianco sarà l'unica in programma, in particolare ha detto che non è pervenuta alcuna rivendicazione da parte del Partito Democratico, smentite così le voci che qualcuno ha alimentato su una possibile entrata in giunta di Renato Claudio Minardi che non è stato rieletto consigliere regionale. E quindi anche su questo bisognerà forse attendere qualche ora in più, però questa è la situazione politica su Fano. Il Carlino del Bianco si dimette pronto il rimpasto, titola il Carlino, l'ormai ex assessore per cultura allo sport, dice ho vinto la cattedra in una scuola media di Fano, ipotesi successione per Barbara Brunori. Entro mercoledì della prossima settimana il sindaco farà sapere chi prenderà il suo posto, dunque bisognerà attendere ancora qualche giorno. Lei dice ho vinto la cattedra in una scuola media e quindi per me è un momento di svolta importante, non nascondo il dispiacere di lasciare ma era un passaggio necessario. E naturalmente il primo cittadino ha elogiato la serietà dimostrata da Caterina del Bianco anche nel dare dimissioni. Non tutti lo farebbero e questa decisione le fa onore. Ancora dai quotidiani, riequilibrio anche nelle deleghe sotto, sempre dalla pagina di Fano del resto del Carlino, ancora alcuni giorni di riflessione, sono i giorni che si è preso come abbiamo visto Massimo Serri, dice non mi dispiace calare le decisioni, non mi piace scusate, non mi piace calare le decisioni dall'alto, più la squadra è affiatata meglio è per tutti. Beh questo è direi più che sacro santo e saggio soprattutto perché poi quando in una squadra che va bene si entra un elemento magari di disturbo poi tutti ne risentono. Quindi è importante anche non rompere gli equilibri interni. il primo cittadino non fa nomi, riservandosi dunque prima della nomina qualche giorno di riflessione e un momento di confronto anche con gli altri assessori che compongono la giunta. Le deleghe le attribuisce il sindaco, sono una sua prerogativa, ma non mi piace appunto come detto calarle dall'alto. La nomina di Brunori sembra dunque quasi scontata, tanto che il capogruppo di Noi Città Enrico Cipriani commenta spero che la presenza in giunta di Brunori sia confermata in quanto sarebbe il giusto riconoscimento di una persona che conosce i meccanismi dell'amministrazione comunale e quindi insomma sarebbe la persona giusta. Intanto a Sant'Orso le asfaltature, Sant'Orso un quartiere di Fano, dico per chi ci segue da fuori provincia, arrivano queste asfaltature nel quartiere di Sant'Orso che partiranno dalla prossima settimana per un importo di circa 130 mila euro. Continuano gli interventi per migliorare la città. L'obiettivo è facilitare la qualità della vita anche nei luoghi periferici. E adesso andiamo sull'altra pagina invece del Corriere dove si parla sempre sulle pagine le croniche di Fano di un fatto che è avvenuto qualche mese fa, un uomo che si è infortunato durante un tirocinio, l'indenità viene data al Comune ma il Comune sta tardando a darla alla persona alla quale giustamente deve dare questa indennità, questi soldi, la persona che si è fatta male. Un disguido burocratico dell'Inps, l'assessore Tinti risponde, disposto il pagamento, quindi insomma solo questione di giorni. C'è una lettera di protesta di questa persona interessata, di questa persona che ha fatto questo tirocinio. Parliamo di 800 euro, è una liquidità, un assegno che arriverà insomma breve. Asfaltatura a Sant'Orso dopo la bonifica di Aseta, anche il Corriere Adriatico pubblica la notizia dei lavori sulla strada, la stessa azienda ripristinerà il manto stradale dopo gli scavi per i lavori alla rete idrica. Sulle perdite occulte, sempre da Fano, il sistema garantisce solo i gestori, Movimento 5 Stelle e Bene Comune criticano la sordità della maggioranza. E poi questa sinistra ha perso il contatto con le persone, la lista insieme è meglio vuole ripartire dai valori e dalle esigenze delle aziende. Fuori brudetto invece c'è la promozione nei ristoranti per tre domeniche fino al 18 ottobre, il prezzo fissato a 20 euro, la prenotazione però è obbligatoria. A Senigallia in bocca alla via Contromano, panico, gli automobilisti si sono trovati davanti a una macchina guidata da un anziano, il traffico è andato in tilte e soprattutto c'è stata tanta paura. Politica e turismo in lutto, addio a Tarciseo Torreggiani, l'ultimo presidente dell'azienda di promozione turistica, aveva 81 anni, i funerali saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a Marzocca di Senigallia. E un uomo che compra un'auto in Germania e scopre che era rubata, naturalmente ha presentato denuncia, la macchina era arrivata a oltre confine tramite un 22enne calabrese. E poi ancora dalla pagina del resto del calino a Pesaro, fiori, profumi e mascherine sfida il Covid, la prima volta della mostra delle piante in piazza nel pieno del timore dei contagi, ma i clienti non sono mancati lo stesso. Un espositore dice il problema è fare rispettare i percorsi dentro gli stand. Tetto smontato, questa è la fotografia vista dall'alto del vecchio palazzetto dello Sport a Pesaro. Presto l'hangar sarà a cielo aperto, eliminato l'amianto e le intelaiature che sorrigevano alla volta. L'assessore Belloni promette a giugno lo inauguriamo. Quindi insomma devono andare veloci. Dalla Vallefoglia, Corriere Adriatico, Agribio, birra artigianale e tartufo. Il weekend fa il pieno di fiere green a Talacchio, secondo appuntamento con la fiera di San Michele Arcangelo. Da Pecchio apre il festival, ospite le sorelle Vandi. Mentre Giacomo in regione, Giuseppe, vola in Europa League. Il fratello di Giacomo Rossi, che ha vinto le elezioni regionali nella lista civica, il fratello di Rossi è vice-minister degli irlandesi del Dundalk. Prossimo avversario sarà l'Arsenal. Giuseppe Rossi è, lo vedete qui a destra, e lui è il fratello di appunto Giacomo Rossi, il neoconsigliere regionale. Calcagnini, andiamo sulle cronache di Urbino del Carlino. Calcagnini è il magnifico rettore, il candidato unitario ha avuto il 91%, 91,8% dei voti, per lui anche quelli dei rappresentanti degli studenti. E qui vedete mentre con il suo predecessore Stocchi brinda con due bicchieri di carta. Insomma, queste sono le votazioni, i momenti di queste votazioni. Stocchi che tra l'altro ha detto è una elezione nel segno della continuità. Urbino, Calcagnini, consenso totale dell'Ateneo, nuova sfida, anticipare i cambiamenti. L'economista è eletto il nuovo rettore della Carlo Bo con il 91,8% dei voti. Stocchi lascia un istituto in salute. Gambini intanto tutela i beni immateriali, su protocollo con l'istituto di riferimento, progetti ampi sul patrimonio identitario. Fossombrone attira più turisti, ora l'itinerario del buongustaio, le richieste dei ristoratori al comune di Fossombrone, i progetti di siti app e wifi gratuito. Poi il sindaco che rassicura alienazioni previste solamente in casi di estrema gravità, fugate le preoccupazioni della minoranza sulla vendita, svendita del patrimonio di cartoceto. Mentre qui sotto, passeggiata della salute alla gola del furlo, domani alle 9.30 per il progetto MOVIS contro i tumori femminili. Dalla Val Cesano ha allestito un nuovo parco inclusivo, siamo a Marotta, il gioco diritto di tutti i bambini. Alle 17 l'apertura dello spazio di Marotta, grazie a Malarutta e al sostegno pubblico. Sotto invece Mondavio nei weekend accoglierà i camperisti e poi targa per i 40 anni di medico di base, ringraziamento del sindaco di San Lorenzo in campo dell'Onti a nome della collettività, il dottor Vincenzo Romani. Questi sono i volti invece che a Senigallia si sfideranno, anzi o meglio i due volti sono quelli dei due candidati a sindaco. Questi sono i volti di chi eventualmente, a seconda di chi verrà eletto sindaco, saranno poi gli assessori. Volpini e Olivetti si sfidano con le giunte, tutto pronto per il ballottaggio con i due candidati che hanno presentato in anteprima gli assessori che li affiancheranno in caso di vittoria. Seggia aperti domani e lunedì, sulla scheda solo il nome dei due candidati che sarà da sbarrare. Le due classi, sempre da Senigallia questa volta dal Corriere Adriatico, le due classi finalmente sdoppiate, Corrinoldesi e Padovano respirano, lezioni regolari con le supplenze, è stata tamponata anche l'emergenza relativa ai docenti. Intanto sono arrivati a Senigallia i nuovi banchi singoli per le aule speciali al Pansini, guardate come sono, ecco qua, ecco addio, vedete, è il compagno di banco, va tutti distanziati con queste, certo che stare sei ore lì in questo banchetto piccoletto così tutti, è già un bel sacrificio. Poi addio Tarcisio Torreggiani, una vita per Senigallia, l'ex assessore di CIA, diretto l'azienda turistica, portò il giro con Indurain, il giro d'Italia con il ciclista Indurain. Guardate questa foto di Vangi nel suo studio pesarese, mentre a sinistra nella foto grande la chiesa che è stata realizzata in Corea del Sud. Questo è il Cristo appunto realizzato da Giuliano Viangi, è la cattedrale di Seoul, è una nuova chiesa coreana, avrà tre grandi opere appunto di questo scultore, oltre al crocefisso anche 40 metri di disegni sospesi nel vuoto, che troverete sulla pagina 2, che non vi faccio vedere stamattina, ma che pubblica il giornale. Intanto qui sotto Giuliano Vangi a sinistra, mentre parla con l'architetto Mario Botta. I due si sono molto confrontati sulla scultura e sui disegni. E' molto famoso Vangi in Corea, così come in molte altre parti del mondo, ma insomma sta avendo un grandissimo successo. Andiamo velocemente sulle pagine di Sport 2, la VIS via agli abbonamenti per 550 tifosi. A differenza dell'Alma, la società bianco-rossa ha deciso di aprire comunque agli abbonamenti, il Fanno invece no. Da mercoledì 7 ottobre parte la vendita delle tessere, si possono acquistare solo le gare di andata o tutto il campionato. I prezzi sono scontati, 550. Però in caso di divieti, la società garantisce la VIS PESOLO, l'abbonamento a Eleven Sport, che è la piattaforma tv internet che trasmette le partite. Quindi se uno non può andare allo stadio, perché per varie ragioni col Covid non sarà possibile, la società converte il biglietto allo stadio con quello televisivo. Il Fanno invece firma il difensore Rillo, qui un progetto giovane, dice lui ha giocato quattro gare in serie B a Benevento, la società Granata mi ha voluto fortemente. È un ventenne difensore di fascia a sinistra arrivato in prestito da Benevento e che ha debuttato in serie B con quattro presenze di cui due da titolare. Ma ci sono anche, ve lo voglio dire perché ancora abbiamo un minuto, c'è una presa di posizione dei Panthers che sono i tifosi, una parte dei tifosi del Fanno Calcio, quelli organizzati, domani contro il Padova alle 15 al Mancini, sarà la prima partita in casa a porte chiuse di questo nuovo campionato. In attesa delle decisioni del Governo però alcune regioni hanno deciso una percentuale di pubblico, cosa che invece le Marche non hanno fatto, quindi le Marche stanno con gli stadi chiusi per ora. Il Fanno inizia il torneo senza campagne abbonamenti e senza poter contare sugli incassi. Sul fronte dei tifosi i Panthers, Fanno 77, hanno preso una decisione che è quella di dire non saremo su quei gradoni, cioè quindi sui gradoni della curva finché non potremmo tifare come facciamo noi di solito, insomma nel nostro essere, con i nostri triscioni, con le nostre bandiere eccetera eccetera. Sarà un modo quindi un modo di vivere nuovo oppure, pure noi, quello del bar, del pub oppure nella strada. Quindi guarderanno le partite evidentemente anche loro attraverso i computer e i cellulari. L'ultima pagina è quella di Enrico che è questo giovane 36enne pesarese che ha sofferto in passato di gravi problemi legati ai disturbi alimentari che percorrerà 8.848 metri, l'altezza del tetto del mondo, nel percorso tra Auditore e Casinina. Ogni tappa qualcuno lo accompagnerà. Tra oggi e domani l'impresa di questo 36enne, Enrico che scala 8 chilometri in bici, sfida il suo Everest e le salite della vita. È un appuntamento tra oggi e domani nella salita che da Casinina conduce ad Auditore di una singola resfida. Salire e scendere con la bicicletta lo stesso percorso fino a raggiungere l'altezza dell'Everest. Quindi 8.848 metri. Va bene, è tutto. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, vi auguro un buon fine settimana, un buon proseguimento con i programmi di FanoTV. Ce ne sono tanti in questi giorni, diretta, San Francesco, non sto qui a ricordarveli perché ormai siamo arrivati alla messa di Loreto, sono le 7 e mezzo quasi, quindi mi fermo qui. Vi ricordo che c'è questa sera, però alle 20.30 il nostro magazine 7 per occhio e come sempre per le vostre segnalazioni il numero di telefono che vedete ancora sul nostro televisore. Grazie e ancora buona giornata a tutti.